amici buongiorno buon martedì martedì 4 di gennaio anche oggi siamo qui puntuali 14 30 per riportarvi la grande musica che i nostri ragazzi sabato primo di gennaio ci hanno regalato allora oggi vogliamo parlare ancora dei nostri ragazzi ma soprattutto vogliamo riascoltare le loro belle canzoni lucia traversi questa ragazza che sta facendo un bellissimo percorso lei che viene da mercatino conca mercatino conca so che a molti di voi viene in mente l'europa il grande locale la grande discoteca di mercatino conca dove un ventennio un trentennio ha fatto ballare a noi fatto suonare per voi in questo grandissimo locale allora comunque adesso torniamo a lucia traversi perché lei è pronta per tornare a cantare vai renato parlano di me una donna facile con le difficoltà un giorno semplice parlano di te che sei fragile ma cammini a testa alta senza chiedere parlano di lui uno stronzo senza fine che si perde sotto le prime luci di aprile dicono di me che rimarrò da sola ma nel tempo certo so che ne rimarrà una di me una di me una di me parlano di te che non hai regole la gente parla quando non ascolta neanche se parlano di me che non mi amo davvero ma una carezza sul mio viso e il mio primo pensiero parlano di noi che abbiamo tutti contro ma tu sei come me so che rimarrai al mio fianco dico no di me non sono più come me e questo sono io e loro sono oro nero 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 parlano di lui un uomo che si perde ma da un abbraccio alla vita che poi lui protegge parlano di lei una stronza senza cuore ma che chiede solamente di trovare amore Dicono di me che non so consolare Ma sono qui davanti a te e mi prendo il tuo dolore Parla un po' con me che sono come te E le parole sono armi e sanno fare male Devi saperle usare Parlano di te che non hai regole La gente giudica e non sa neanche lei perché Parlano di me che non mi amo davvero Ma la carezza sul mio viso la vorrei su sé Parlano di noi che abbiamo tutti contro Ma tu sei come me e so che rimarrai al mio fianco Dicono di me che sono più come ero E questo suono io non lo voglio l'oro nero Oro nero Oro nero Oro nero Oro nero Oro nero Parlano di te che tu puoi cambiare Ma nella vita hai fatto passi per poter amare Parlano di me che tu puoi cambiare Tutto compreso Amici avete capito l'orchestra Bergamini Nerea Danze una settimana da sogno Mi raccomando qui vedete i numeri della nostra agenzia Chi è ora chiamate per qualsiasi informazione e soprattutto per prenotarvi perché vogliamo passare insieme a voi una settimana da sogno Poi ragazzi abbiamo Andrea e Nicole che tutte le mattine vi faranno scuola di ballo vi insegneranno i passi segreti della nostra tradizione dei balli di gruppo mi raccomando allora avete capito che dal 5 al 12 giugno 2022 Brava Fantastica Puglia a Marina di Pulsano Complimenti Al Nicolaus Club con l'hotel Il Gabbiano 4 stelle 770 euro tutto compreso per voi Fantastico E allora ragazzi Vi aspettiamo E questa è la nostra Lucia Traversi Da Lucia, Alessandra, Beldean Le nostre giovanotte, le nostre ragazzotte che ci regalano tante emozioni Ci danno tanta soddisfazione Perché comunque voi che ci seguite avete capito che i nostri ragazzi seguono la lettera quello che i nostri giudici stanno consigliando e stanno regalando loro Perché specialmente quando le parole dei nostri giudici arrivano ai nostri ragazzi capiscono che i nostri giudici dicono per il bene, per il bene loro Alessandra Beldean, vai, facci sognare come ci hai fatto sognare sabato sera sul palco di Degni di Nota Vai Renato Promettimi che prima di dormire qualche volta in tutte le sere ti innamorerai Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi Promettimi che prima di dormire è un'altra cosa vuoi Voci di miele da ricordare, risalire è come marinai nel mare, non sentirne il confine, non sentirne il confine Promettimi di far entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore Anche quando vivresti solo di notte e di guai Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi Non vantarti a caso e non sentirti il migliore mai Voci di miele da riascoltare per risalire è come marinai nel mare, non trovarne il confine Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare e che conta quel che rimane E che conta quel che rimane Tutto scende per risalire Si tiene duro e si lascia Si tiene duro e si lascia andare e tutto passa per un canale Tutto serve, tutto è speciale, è così che mi piace pensare Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare e che conta quel che rimane Cambia tutto ma quello resta sempre uguale E credo che sia questo amore 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 E anche oggi per questo martedì 4 di gennaio siamo arrivati alla fine delle nostre pilloline. Volevo ricordarvi, visto che ci seguite anche sulle nostre pagine Facebook, visto che il nostro Renato pubblica puntuale tutti i giorni le puntate di queste pillole dedicate a degni di nota, domani sera noi l'Orchestra Bergamini sarà al re da sé di Montecchio Emilia. Ragazzi, dopo più di due anni torniamo a questo mitico locale. Se avete voglia di stare con noi, visto che domani sarà un aspettare la Befana, come si può dire, è una pre-epifania, giorno di pre-epifania. Domani sera a Redas di Montecchio arriverò io con Novella, tutti i miei ragazzi, per farvi passare una bella serata dedicata alla tradizione, alle nostre canzoni, ma soprattutto per farvi ballare. Tutto questo domani sera a Redas di Montecchio Emilia. Amici, buona giornata, ci vediamo domani, come sempre. Grazie a Videoproduzione Maltone, a Tele Romagna, a Orogel, da Luca Novella e i miei ragazzi. Ci vediamo domani 14.30. Le edizioni musicali Novalis vi augurano una buona giornata. www.novalis.it Prendimi 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 Ora scorrono dentro di me i tuoi momenti più fragili, ma credimi, puoi ancora volare lontano nel cielo e sfiorare stelle all'infinito. Prendimi 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 Prendimi